Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, io e Amelie, con il cappellino che non vuole tenere, vi vogliamo augurare un felicissimo Natale da passare in compagnia delle persone o delle cosine pedose che vi vogliono più bene e che volete voi più bene, di passarlo in un momento di allegria con la vostra famiglia, di qualsiasi tipologia sia. Vero, cucciola? Noi vi mandiamo un grosso bacio e Buon Natale! Ciao!